Oggi vi mostro tre delle mie auto. Bene ragazzi, sono Steven Baselari, alle mie spalle tre delle mie auto che ora vi mostrerò meglio nel dettaglio. Ho deciso di portarvi queste tre perché hanno tutte un significato diverso, per me è importante. Partiamo dalla prima, da questa Bentley, con TINETAL GTC Cabrio. Questa perché per me ha un significato molto importante, perché era la macchina di mio padre. Come vedete, infatti, lo stile è un po' vecchio, un po' datato, questo blu notte, con i cerchi enormi, guarda, Nico qua, i cerchi come sono grandi, e gli interni color beige, molto elegante però è molto antica, guardate anche gli interni con legno e tutto. Un'altra piccola curiosità su questa macchina, pensate, mio padre la pagò dieci anni fa circa 260.000 euro ed oggi su vari portali trovate tutte le informazioni e trovate queste Bentley a circa 60-70.000 euro. Questa fortunatamente a pochissimi chilometri perché ha 35.000 chilometri, però la valutazione purtroppo è molto bassa oggi. Facciamo un salto nel presente, quindi passiamo dalla Bentley alla Huracan Spyder, sicuramente questa è la mia preferita, un modello che non passa mai di moda. Questa l'ho comprata per il mio compleanno, non di quest'anno ma dell'anno scorso, anche lei comunque è nuova perché c'è la 13.000 chilometri, e adesso vi faccio sentire anche una sgasatina. Passiamo alla terza e ultima macchina per oggi, che è la Panamera Benzina, che ho comprato circa un anno e mezzo fa, questa non nego, è la macchina che usa un po' di più perché è comoda, è veloce, è un bel compromesso, guardate gli interni, rosso sportivo, con anche il tettuccio aprivile, mi piace molto anche il spoglierino dietro, l'alettone, cerchi i veri, ovviamente adesso è sporchissima ragazzi. Un'altra piccola chicca, nel retro ho montato due monitor per i miei passeggeri, così possono anche distrarsi nei viaggi lunghi. Ora ragazzi, mi serve il vostro aiuto, come vedete le auto hanno un colore abbastanza neutro, quindi la Panamera è nera, la Lamborghini è grigia e la Bentley è blu notte, quindi ho deciso di mettere una pellicola, di farle brappare, voglio farle molto particolari, per questo mi serve il vostro aiuto. Guardate, ho selezionato ieri su internet un po' di immagini, Panamera o verde o glitterato, guardate che roba, oppure per le donne, rosa. Ragazzi non scegliete questo per favore. Per quanto riguarda la Lambo invece, stiamo più classico, quindi blu, verde oppure arancione. Ultima, la Bentley, o questo blu così opaco che mi piace, o bianca che è molto elegante, oppure attenzione, una follia alla Max Felicitas, guardate, la Bentley oro. Fatemi sapere qua nei commenti quale secondo voi è il colore che si adatta meglio alle tre auto, guarderò tutti i commenti e poi a febbraio vi porterò il risultato finale. Bella raga. Grazie.